A volte chi fa il mio lavoro si scervella per trovare il modo migliore e più sintetico per comunicare un concetto. In questi giorni mi è capitato di vedere il film Old, quello del famoso regista Shyamalaya, Shyamal, come si chiama? Il film si basa su una spiaggia dove il tempo va avanti velocissimo, tanto che nel giro di pochi giorni una bambina può diventare un'anziana. Sì, ti ho fatto lo spoiler. C'è una scena nella quale una ragazza, poche ore prima bambina, spiega in maniera molto semplice e allo stesso tempo in modo profondissimo la differenza dei propri sentimenti verso un altro ragazzo, a distanza di ore. Prima dice percepivo le emozioni con colori molto accesi e definiti, ossia quando era bambina, ma poche ore dopo, diventata una ragazza adulta, percepiva molte più emozioni, ma con colori più sfumati e meno accesi. E questa credo sia la definizione più bella per spiegare la differenza nel processare quello che ci circonda quando siamo bambini, dove tutto è vivo, acceso, a differenza di quando diventiamo adulti, dove tutto il nostro bagaglio contribuisce a dare meno spessore a quello che viviamo e la nostra percezione delle cose resta meno chiara e più confusa. Complimenti a Shyamalai Shyam, quel regista lì.